La parola casa e tutti i suoi derivati nel mondo dell'economia e dell'immobiliare è la grande assente nei punti programmatici presentati dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, un aspetto che non coglie di sorpresa agli agenti immobiliari napoletani. Mai nel corso dell'ultimo decennio il Governo ha realizzato un piano per aiutare questo comparto. Grazie. L'Italia è l'unica nazione europea che ignora l'esistenza dell'immobiliare. Spagna, Francia ed anche la derelitta Grecia hanno leggi e politiche che fruttano punti di PIL, senza voler scomodare la Germania. Basterebbe copiare l'oro, come si tenta di fare in altri settori. Fino al 31 dicembre 2019 è possibile usufruire nella misura del 65% dell'ecobonus, la decretazione fiscale dall'IRPEF e dall'IRES, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Le percentuali di detrazione variano a seconda che l'intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dall'anno in cui è stato effettuato. Sono davvero molteplici e variegate le opportunità di detrazione, per cui è necessario farsi seguire da un esperto per essere sicuri di coglierle tutte. Si è partiti nel 2007 con agevolazioni riguardanti la riqualificazione energetica degli edifici, interventi sull'involucro, installazione di pannelli solari, sostituzione degli impianti di climatizzazione. Per essere sempre più al passo con i tempi, per le spese sostenute fra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, è prevista una detrazione per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione. Sono agevolabili, oltre alla fornitura e posa in opera, tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche, ma non l'acquisto di telefoni cellulari, tablet, personal computer e dispositivi simili.